Il servizio è assolutamente semplice a livello di fruibilità, diciamo che è stata proprio la nostra linea guida quando abbiamo implementato il servizio di car sharing, nel senso che la tecnologia permette di rendere le cose semplici. Tant'è che per usufruire del servizio basta iscriversi online, il procedimento di iscrizione non implica alcun tipo di documento da portare fisicamente in qualsiasi tipo di ufficio perché viene perfezionato tutto online, il che vuol dire che in 10 minuti, un quarto d'ora il procedimento di iscrizione è completato. Il costo dell'iscrizione è zero, il servizio è un puro paper use, lo uso un'ora, pago un'ora, lo uso una giornata, pago una giornata. Dopo l'iscrizione semplicemente si prenota il servizio se mi voglio spostare da Maccagno e raggiungere uno degli altri 90 punti che sono presenti in Lombardia di Evai, come dicevo i punti sono punti nevralgici della regione per cui la maggior parte delle stazioni ferroviarie, soprattutto gli aeroporti. In questo caso devo prenotare il servizio prima, nel caso in cui invece mi volessi utilizzare il mezzo a Maccagno per ritornare a Maccagno non ho bisogno neanche di prenotare, verifico la disponibilità online della vettura, se c'è disponibilità della vettura la prendo e utilizzo il servizio. Questo nuovo servizio è un servizio di crescente diverso che abbiamo definito poi tutto il vero.